allora prima di tutto vorrei dire bella raga poi aggiungo grazie patcher per i 41 mesi e sampai per i 61 ok ok e così siamo in bolla a posto a posto poi vorrei dire che che bello questo tempo uggioso mi sento a casa c'era quasi la nebbia stamattina mi sono fatto una doccia lunghissima perché ero quasi al buio però con questa luce un po penobro mamma mia sta bellissimo adesso sì che sta arrivando il vero clima del nord dove in dove in non vedevo l'ora prima di iniziare l'ora mi sono seduto qui e c'è il bar non so chi sta friggendo pesce quindi mi è arrivata alle 8 e 50 erano una bella folata di fritto di pesce quindi è stato eccezionale curo another one grazie mille per gli 8 mesi è stato proprio speciale e basta sì ieri facciamo un caldo boia e farò un caldo boia anche oggi perché le temperature dovrebbero salire che coglioni caront 28 mesi capitano una volta sola nella vita ma sa cosa non capita una volta sola il bene che gli si vuole perché sempre comunque meno di tre grazie mille e poi c'è un leila ma piccolino la doccia lunga è pro russia madonna ho i pannelli che chissà se stanno oddio non è tornata applicazione da una vita non so se sicuro non mi fa loggare stai a vedere spero che la passo sia giusta me la sono ricordata al primo colpo sto producendo 0 889 kilowatt poco più di mezzo kilowatt ieri quanto ho fatto ieri o ieri ho chiesto ieri ieri ne abbiamo fatti 18 kg ma se non tanto effettivamente però nelle ore più calde abbiamo pompato buongiorno buongiorno com'è plant zoo a planet zoo no non credo di rigiocarlo perché per i tipi di proprio di planet zoo c'è qualche aggiornamento c'è hanno messo i capi bar ho visto no allora stasera giocheremo you suck at party cosa mi è arrivato una mail da twitch in inglese perché ok ho capito che va bene leggo dopo mi devo ancora svegliare mi devo ancora svegliare mi ricordo usate atos buongiorno buongiorno anche a lei grazie mille per i suoi due mesi tu devi essere igor no si pronuncia stamattina mi sono svegliato ho fatto la cacca ho bevuto il caffè mi sono fatto la doccia questo è tutto quello che ho fatto jo buongiorno volevo chiedere una benedizione per la discussione di tesi che ho tra un'ora e mezza cazzo tanti auguri mi saluti tutti soprattutto il rettore buongiorno buongiorno adesso mi mi sveglio lunedì 12 ore vi ricordo lunedì 12 ore martedì la sub stream hanno fatto hanno presentato roba no la conferenza microsoft e oggi orcocane oggi alle 11 quanto dite che dura ce la guardiamo vi ho saltato che ho saltato scusatemi belli shimei un altro mese poi un altro poi altri grazie mille per i 17 mesi e humanity per i 3 grazie mille e anche atos mi ero perso mi pare di avervi letti tutti però sono incasinato allora visto e considerato che è al nostro orario magari ce la possiamo guardare la infiliamo dentro dai fra facciamo un hype train di livello 2 grazie mille per 100 bits lo metto lo metto dai ore 11 conf micro frost eccola là ciao palè fatto è già è segnata allora durante la 12 ore giocheremo a monkey island ok lo scopo della 12 ore di monkey island è non avere back sitting o spoiler del gioco stesso probabilmente non durerà 12 ore probabilmente ne durerà meno ma vediamo ok facciamo così hanno aggiunto finalmente all on to beat da qualche parte ovvero nell'applicazione xbox e game pass molto bene hi binge sleep well binge good morning and good night cosa stavo dicendo? si che non mi so l'on to beat è un'applicazione xbox può essere che ti stancherei prima di che cosa? a parte il fatto che adesso partiamo subito a cacciare perché allora abbiamo solo due ore per trovare quel cazzo di culo bianco dov'è? dov'è? non è che è sera? no è notte soprattutto al mattino da lei mi stanco prima di monkey island perché? se dici che è noioso speriamo di no le way of the hunter rispiriamo un po' di aria fresca stamattina no va bene male gantt uno che mi dice fai così fai colì che magari fa il fenomeno sì me lo aspetto però dai almeno non è gente che al 100% sa che cosa deve succedere vento interessante vento interessante andiamo ricordo due ore di elden sì però elden era stato già giocato dalla mezzanotte non so come andrà per monkey island perché non so nemmeno se lo rilasciano in tempo quindi alla peggio lo dovrò giocare da switch e sarà un cazzo di incubo però vediamo sicuramente monkey island è molto più di nicchia rispetto a elden ring perché hai detto che non ti piace molto lo stile no mi fa schifo lo stile però il gioco sicuramente sarà valido come mai six hanno sbagliato persone di che parla di monkey island praticamente di un'isola e ci sono le scimmie un botto e lei lo aveva già finito prima dell'uscita a causa la leak dell'online test sì per carità non ho proprio capito la scelta di uno stile completamente nuovo in realtà a parte il fatto che lo stile delle remastered fa cagare Vector quindi diciamo questa cosa senza peli sulla lingua fa cagare detto questo la pixel art negli anni 80 non era una scelta di stile attenzione la pixel art negli anni 80 non è mai stata una scelta di stile era una necessità perché negli anni 80 la pixel art era lo stato dell'arte quello era il massimo che si poteva ottenere detto questo Ron Gilbert ha sempre pensato a come fare il prossimo titolo di monkey island e questa è una cosa che tra l'altro ha detto Pianesani più volte aveva lì sul comò una fan art fatta da un da un suo fan appunto di Guybrush che gli è sempre piaciuta quando gli si è gli si è proposta l'opportunità di fare il nuovo monkey island ha telefonato a quell'artista a quello che ha fatto la fan art e gli ha chiesto di fare tutto il gioco perché a lui piaceva quello semplice semplice è stata una sua scelta personale in molti non la condividono ma è soprattutto non tanto perché non è pixel art non perché mi è piaciuta la grafica dei remake perché non mi è piaciuta per niente ma proprio perché c'è quello stile cartoon che rende tutto caricaturale e sembra uno spin off o una parodia non mi piace quando fanno così anche in altri ambiti Teen Titans Go altro esempio tutti dicono che i Teen Titans Go sono bellissimi come serie però quando sono passati dai Teen Titans che mi è piaciuta tantissimo ai Teen Titans Go io non l'ho guardato perché era troppo cartoon per me poi le animazioni danno veramente pochezza lì non so se sia un limite monetario o una scelta stilistica lì non so proprio dirti perché alla fine l'ha preso Devolver che avrà speso un buato di soldi da dare alla Disney io non so quanti soldi siano rimasti per lo sviluppo no per me Vector poteva rimanere pixel art l'avrei amato questi anni sono grand game ma devo dire che gli sfondi non sono affatto male eh ma c'ha sempre quello stile con le cose un po' cicciottelle un po' grosse un po' piccole un po' storte e non mi piace troppo troppo Toon con queste linee non so come descriverlo sinceramente è possibile Vector e quindi vediamo oh qui comunque non c'è un cazzo che ora è? mezzogiorno e mezzo T3T3SGO è un motivo di stile ho guardato degli episodi seppure infantili prendono il regano delle chicche fumettistiche fatte in maniera intelligente ma non solo ho v... qui hanno battuto degli alberi? o sono sempre stati abbattuti qua? non lo so sono matto ho visto il trailer del film al cinema e mi ha fatto proprio ridere il trailer del film dei Teen Titans non mi piace non mi piace lo stile non ho detto che è brutto brutta la serie l'hanno fatto un po' più infantile è vero meno dark però è un po' l'adventure time va bene che adesso stanno facendo tutto l'adventure time alla SpongeBob quindi qualcosa che va bene per il ragazzino ma anche l'adulto riesce a guardare Steven Universe Timberweed Park e compagnia bella grazie a Dubbox per i 37 mesi è il mio orecchio che batte sentivo battere tipo un cuore nel mio orecchio sinistro eh i Teen Titans per me sono una bella perla eccoli e vederli trasformati in quella cosa lì dei gomi è dispiaciuto molto poi per carità meglio la versione godi della serie tv che hanno fatto su Netflix santo cielo è il mulo avete ragione porca puttana adesso vediamo all'una dovrebbe arrivare meno 10 perché non ho visto la serie Gotham Knights no no non mi interessa a parte il fatto che la roba DC in generale non sono mai stato un grande fan della DC aspetta che ce n'è uno lì coda bianca perfetto non sono mai stato un grande fan della DC come eroi non so come mai ho sempre preferito la roba Marvel sono sempre stato un fan di Spider-Man Wolverine i classici adesso cos'è che c'era quando ero piccolino che mi piaceva sto cercando di tirar fuori roba che non non mi ricordo dai tempi andati gli X-Men tantissimi X-Men Hulk infatti gli X-Men un gran peccato che anche lì non hanno fatto un lavorone i Fantastici 4 sì 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 assolutamente Iron Man mi è arrivato un po' dopo Iron Man ho iniziato ad apprezzarlo più avanti nell'infanzia ero più su altro tipo di eroi eroi con i superpoteri no neanche Capitano America e io continuo a ripetere che per me Iron Man non è un supereroe grazie a Dr. X-X ogni tanto mi ricordo di condividere l'abbonamento buona live altrettanto grazie mille Daredevil ma in realtà non ho neanche mai letto grandi fumetti DC devo dirvi a parte qualcosina di Batman The Killing Joke però non lo so c'è sempre il solito problema per i per i fumetti occidentali da piccolo leggevo quelle raccolte quelle collane gold che davano insieme a Repubblica se non sbaglio se tu non compri quelle cose lì e devi leggere gli spillati è un problema è un problema no no Deadpool l'ho iniziato a leggere molto dopo però beh Deadpool alla fine della fiera non l'ho mai trovato neanche tutta sta grande estata succedevano le puttanate basta faceva ridere fine leggi gli autoconclusivi è un dispendio oltre che aspettare mesi ma anche di spazio di tempo cioè proprio gli spillati non mi sono mai stati in tasca per questo ho letto molti più manga durante la mia giovinezza che sono anche più bellini da avere esposti gli spillati come formato fan cagare guarda i disegni li apprezzi molto più che un manga perché comunque si aprono bene c'è il paginone colorato sono belli però vacca boia cioè in dieci minuti hai finito di leggere e basta manga che ho preferito di più lì cascate malissimo con me ragazzi io sono un amante degli shonen ho letto anche roba non shonen però sono sono e sono rimasto sempre un bambino quindi sono sono shonen guy ho letto anche roba un po' più seria però mi piacciono gli shonen il primo numero della serie X-Men è arrivato in Italia in metà anni 80 in realtà era il numero 100 e qualcosa ed era la metà di un'avventura spaziale con i xenomorfi pensa come hanno gestito poi bene le cose c'è lì in alto a sinistra non li vedo li vedo solo lì e non si stanno avvicinando tra l'altro perché sarebbe l'1.09 quindi vuol dire che sono stazionati lì ok vediamo cosa riusciamo a combinare con quello che abbiamo 200 metri oh attenzione c'è un mulo perché mi è sparita no non dirmi che si è spaventata sto gattonando c'è neanche gattonando sono stradiato qui a sinistra sono mulo ragazzi non ce ne frega niente un eroe un eroe può essere anche un pompiero un poliziotto un super portatutto da un livello superiore difficile da esistire per la gente comune si però Iron Man non me lo definisco comunque un super eroe perché non c'è i super poteri è un ganso con tutto che lo adoro però è uno che ne sa un sacco neanche Batman è un super eroe per me è un eroe hanno i soldi hanno una grandissima mente soprattutto perché non è da sottovalutare perché non è solo con i soldi che hanno fatto tutto intelligenza fuori dal comune lo puoi chiamare genio non super eroe poi magari è il mio parere questo dovete pensarla come me vi sto dando la mia idea ok allora quanto dista sto stronzo 179 metri voglio puntare a quello dietro l'albero vediamo se riesco dipende se i super poteri consideriamo solamente soprano io considero solo quelli io personalmente io io considero solo quelli 150 i zeroing vediamo eh ma io non li prenderò mai il cuore a questo è impossibile mi sa che becco l'albero qua infatti mi segna 18 metri merda attenzione forse c'è la mia occasione qui no si è cucciato bastardo ma perché beccano in testa leggi la missione Atos scusami eh porca vacca c'è poi un'idea di merda beccarlo in testa perché non lo sciotti se mi alzo in piedi eh mi sbindola di più non c'è non c'erro questo sì vero si è spaccato tutto ok allora se quello lì sta fermo vuole provarci no dondolo troppo in piedi porca vacca sono tanti 170 metri da in piedi come faccio l'ho preso? non sono sicuro eh ne ho colpito un altro perché comunque devo prendere anche i cuori già che ci siamo ma ma perché ha la gamba ragazzi leggete la missione ma perché continuate a dare consigli a cazzo eh volevo mettere il marker ma non volevo togliere l'altro non mi ricordo se è con la X è niente con la F era no non dovevi prenderlo ma dove l'hai preso ah ok eh sì ok 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 no ma sulla gamba sicuramente l'ho preso l'altro però io spero di aver raggiunto il cuore ma non è morto sul colpo quindi è difficile devi compressare il vento sì infatti devi puntare dove c'è il pallino rosso evitato cacciare col silenziatore non ne ho la minima idea mi stavo chiedendo la stessa cosa forse sì ma sono già arrivato erano qua ma non vedo sangue io però strano cosa cambierebbe l'atto pratico probabilmente devi dare la possibilità all'animale di scappare e di avere paura di te se cacci col silenziatore è troppo easy credo eh è un'ipotesi mia non so il silenziatore riduce tantissima velocità dei proiettili che influenza mire e possibilità di uccisione non si usa nella caccia ah niente allora per quello sì peggiore è mire egittata però ho capito se c'è un fucile della madò lo uccidi uguale l'animale ecco qua ridotta di sangue limpido eh infatti non ne vedo altro anche qui dove si riposano spesso vedi me lo segna non l'avevo visto sangue no impronte vorrei trovarlo però erano corsi verso l'alto sembrava non hai luce questa che peccato l'ipotesi tua è corretta col silenziatore l'arma diventa insidiosa allo stesso modo in Italia non si può cacciare con la balestra ah vedi non l'avevo neanche visto su sangue frammenti di cibo li ho beccato allo stomaco cazzo mi dispiace non riesco a vedere dove potrebbe essere andato è tutto in salita qua rovinata la carne beh non dobbiamo mangiarlo ci servono due cuori e una capanna devo ammazzarne tre però non so se ne ho colpiti tre c'è il muro ah ci sono le tracce ma non c'è sangue alla capanna devi sparare il cuore o non mi la libera non ho capito la domanda allora allora qua sangue e frammenti di cibo sangue ok è andato di qua si è lui però non vedo altre tracce di qua cervo cervo non è quello che ci interessa sembra essere andato di qua proviamo a vedere dritti di qua ci vuoi perché sta mangiando sì ma perché l'ho colpito lo stomaco comunque qui c'è un'analizza l'ho perso cervo muro niente no e mannaggia la vista cacciatore con questa luce sembra che sia filato da ste parti ma non lo trovo ecco qua buono quantità di ridotto di sangue limpido limpido quindi non c'è più traccia di coso qua di cibo frammenti di cibo secondo me ne ho colpiti due o ha due ferite allora che ne ho colpiti due è molto probabile allora di qua c'è quello frammenti di cibo seguiamo i frammenti di cibo poi torniamo indietro e vediamo di trovare anche l'altro questo è quello è il primo che ho colpito secondo me l'ho colpito lo stomaco guardate a trovarlo di qua frammenti di cibo frammenti di cibo lì avanti vedo roba eccolo la vedo la vedo vedo la traccia ok è sparita ma l'ho vista si 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 guarda che va giù di lì è terminato molto sto cervello è quello il problema non avrei dovuto ucciderlo in questa maniera qui quantità ridotta di sangue limpido però niente frammenti di cibo ah mi verrebbe da dire che è lo stesso però eccolo lì lo sono spaventato sono andato di sopra ok uno l'ho trovato nimpido si l'ho beccato chiaramente allo stomaco da cui frammenti di cibo tiro due due volte allo stomaco no secondo no l'intestino l'ho preso non lo stomaco scusatemi merda che brutta morte mi spiace come faccio a prenderlo perché lo devo prendere senza danneggiare il cuore l'ho fatto se io faccio o ho l'obiettivo questo qua no come si fa caccia un cervo senza ok l'ho fatto e adesso trofeo caccia tassidermia fa la F è maschio? eh un cervo da cuore maschio senza danneggiare il cuore eh va bene ah no a posto perché ieri mi ha rotto il cazzo allora va bene sangue limpido attenzione l'altro ha continuato a correre ok speriamo sia una femmina ma scusami ieri l'ho fatto e non me l'ha data per buona però vabbè mi pare di aver colpito anche una femmina ah dici che non avevo cambiato devo cambiare missione ogni volta che rottura di cazzo vabbè oh fuck vabbè ma devo solo recuperare il cadavere io adesso qui non arriva la polizia io li ho sparato 8 km prima se trovo le tracce però o mi spariscono le tracce perché non posso cacciare qui non ho idea di come funzioni andava a sinistra mi guardiamo un attimino allora era qua mi ha appena fatto analizza dove cazzo sei non riesco proprio a capire ciao Ricky qualcuno è passato con una bici eccolo qua sì eccolo qui perfetto ho ritrovato la traccia oh sole mio ok non vedo eh Ricky stiamo cercando un cadavere però è nascosto non so dove cazzo sia sempre se ho colpito abbastanza per uccidere perché si è fatta sempre se sia una femminuccia i chilometri qua ecco qui perfetto e poi da qua dove cazzo andava ah di qua di qua madonna che caccia il tesoro stamattina no questa è merda ha caccato da poco però non è detto che sia la cacca della nostra preda no illuminato dal sole questo non dal oh mi verrebbe da dire che è andato su Brulma grazie per i 18 mesi rinnovate 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 non vedo più un cazzo l'ho sparato in culo no questa parte è più facile irla eh sì ma in realtà credo che sia tutto un po' più facile irla non vedo più niente eh perché sarà corsa su ma da che parte do una sbirciata poi il massimo torno giù no adesso riusciresti a trovare tracce di sangue in mezzo a tutte queste bacia sì però hai il 3D la prospettiva riesci comunque a gestirti un po' meglio rispetto a come stiamo facendo adesso perché comunque mazza che vento cioè magari vedi anche lo schizzo di sangue riesci a seguire meglio la la traccia ecco poi sì ci sono i cani ma vuoi che sia venuta di qua allora io tracce non ne sto vedendo qui con il cervello ne abbiamo trovato uno il secondo non si trova devi fare colazione io voglio il pesce fritto adesso torniamo indietro sono 9.40 eh oh il profumo di fritto è arrivato alle 7 no alle 8.30 che devo fare ma un profumo veramente eccezionale tanto hanno riaperto le scuole adesso c'è un sacco di traffico rumori che palle allora dove eravamo qui rivolgo il covid le gambe rintempura no no un bel fritto misto che gambe rintempura no roba seria una frittura mista totano schie calamaro ma anche no eh perché voi siete animali sociali io non lo sono ma sai che non vuole di frittura mangiamo frittura di calamari a pranzo non ottengo risposta eh andiamo frittura di calamari a pranzo alla lì vai comprala io vado ma io ho la live ah beh venti minuti prima mi ascevamente che schifo che mi fai eh va bene va bene allora vedo se qualcuno ce la porta a casa si e ma arriva più calda se va a qualcun altro perché devo andare lì prenderla portarla a casa comunque al supermercato ma vediamo allora non trovo aspetta un attimo che ritrovo la traccia di sangue poi dopo da lì riparto a fare tutto non era qua cosa sia sto strapiombo sono salito troppo merda ragazzi adesso mi son perso devo tornare sui miei passi ma dite che despona il sangue dopo un po' spero di no il signore ha detto che non vuole andare lei non ha detto di no no vado a comprarmi eventualmente non è un problema arriva sicuramente più calda se me la ordino a casa allora dove siamo ritroviamo il sangue e poi dopo mi metto a cercare la frittura tanto è presto vedete che è desponato aspetta mi c'è non uscita ne sangue oh non la vedo ma mi fido da qua da qua si sale eccolo lì lo vedete e fa questa curva qua va qua eccolo qui poi eccolo qui e qua so cazzi meno lo vedo no eccolo fermi dritto davanti a me dritto davanti a me c'è un altro po' però non lampeggia più non ne vedo altro e qui c'è la traccia interruttis va bene Jay buongiorno come stai grazie Andy per i 28 mesi frittura fritto cerco fritto non so se c'è differenza fritto frittura pesce fritto è il sassacolo ma non lo vuoi baccala fritto maiale fritto fritto deluxe pane cinese no misto di mare fritto ultra ah no ultra pollo fritto sarebbe stata una roba che volevo pollo fritto e salsa patatine cocktail by Roby Marton Jim dobbiamo prendere il pollo fritto dell'ambrosera amore quando è che lo fanno il venerdì fritto al limone prosciutto no niente cerco frittura cerco frittura il venerdì domani il quindisi frittura di pesce asterischi piccola io non so piccola cosa intende è una è una gag mazzancolle sepe calamari con polenta e ferri si no prima consegna le 7 ma vaffanculo frittura di gamberi e calamari con insalata misticanza che sborro 16 euro e 50 quant'è cucina e pizzeria tipica campana ah sapranno loro frittura di gamberi e calamari la vera pizza napoletana ammazza veramente 16 euro mi sembra adesso non so le quantità cifre importanti frittura reale del bassanello questo non so proprio che cazzo voglia dire calamari gamberoni scampi polenta i ferri 18 euro ah bassanello è il nome del posto frittura dell'adriatico generico così frittura di pesce misto no questo qui lo fa cagare l'ho già provata frittura mista di pesce con polenta l'avevo capito vado al supermercato me la compro trovate la seconda pereda no no ma la polenta c'è sempre vector quando ordini la frittura credo sia impossibile ordinare costicine o guancetta di maiale o frittura di pesce e non ti portano la polenta eccolo qua poi poi dirò solo che vuoi la polenta con la frittura glielo dico serve un po' a sgrassare tradizioni barbare cosa ci mettete voi scommetto che voi siete la merda che ci mette il limone avete davanti a voi una frittura di pesce magari del sud appena pescato buonissimo e voi ci buttate sopra il limone e allora cagateci sopra no schifosi schifosi c'è va bene va bene limone la frittura sempre allora mangiate la merda mangiate la gente vi porta il pesce di un certo livello la cosa volete mangiare e ci mettete il limone e allora bevetevi il succo di limone no scemi scemi e la polenta no però ci mettete il limone merde vala vala però che cosa è barbara la polenta eh metteteci il limone no così cambiate completamente il sapore del pesce mangiatevi un'insalata la prossima volta ignoranti comunque dove cazzo hai il sangue che voglio il capriolo che non è il coro è il cervo siamo fermi qui boh e qui l'abbiamo visto no sangue limpido bene ho smesso di sanguinare o è salita o è scesa non lo so dov'è allora noi siamo venuti da di là quindi mi virebbe da dire che procedo di qua faccio qualche metro qualche metro inconcludente oh qui eccolo qui eccolo qui perfetto ok il limone nella frittura deficienti guarda te e la polenta no limone mettono scappati di casa che non siete altro qui qui sì ricordiamo che in Veneto mangiano solo baccalà che praticamente non sa di niente se non di sale Manuelz allora allora come sapete io sono un fan della cucina italiana in generale non sono mai uno che che preferisce una cosa o preferisce all'altra però se dovete venire in chat a scrivere puttanate andate da un'altra parte primo non ho insultato chi mangia la frittura di pesce perché è buonissima soprattutto al sud è buonissima insulto chi ci mette il limone e la rovina uno quindi quindi se già mi viene a dire si mangia solo il baccalà che non sa di niente se non di sale allora mangio la frittura che sa di di limone no primo secondo dire che il baccalà non sa di niente è di un'ignoranza porca puttana leggere che il baccalà non sa di niente io non so non sono d'accordo ma va bene ma tu hai detto allora non sei d'accordo sul limone ci sta dire che il baccalà non sa di niente porca troia porca troia se non è vera questa cosa non fatemi diventare Karim è veramente una puttanata ma gigantesca anzi proprio perché il baccalà ha un sapore forte in molte persone non lo mangiano ma come per te ma che baccalà hai mangiato Marwels scusami era finto il baccalà ha un sapore talmente forte che quando lo mettono a bagno per trasformare lo stoccafisso in una roba lavorabile puzza l'intera casa c'è di tutto mi puoi dire ma che no che il baccalà non sa non sa di niente ha un sapore veramente forte vabbè poi depende come lo fai lo puoi fare il più delicato però il baccalà comunque è saporito e comunque il mio discorso è mangiate il pesce con il suo vero sapore e il suo vero sentimento poi se volete aggiungere il limone a un aceto però per sapere e sentire il vero sapore del pesce fresco che voi al sud avete appunto questa fortuna che vabbè che anche noi dove sono io ce n'è parecchio di pescato fresco fortunatamente abbiamo in comune questa fortuna sentite il vero sapore del pesce non copritelo con il limone perché lo so che sgrassa anche la polenta è infatti a parte ti sfido a mangiare le cozze crude senza limone le cozze crude te ne mangi te e cazzi tuoi infatti non mi piace neanche il come si chiama quello quello da fighetto quella che costa i soldi di qua l'ostrica mi fa veramente no il caviale non mi dispiace non lo mangio a cucchiaiate diciamo che il caviale è quel non sono come quelli che si fanno le cucchiaiate se è in un piatto lo mangio volentieri cioè va bene non mi andrei a mangiare il caviale col crostino ecco botarga mi piace la botarga però è difficile apprezzarla perché quella sa molto di pesce da freschi a cucchiaiate costa vabbè c'è anche il caviale da poveretti volendo ma questa è merda ah qui dove ci eravamo bloccati prima eh sì allora torniamo giù sangue no cacca questa è la cacca torniamo più indietro dove è il sangue era qui non è così distante dalla cacca o sì madonna sta cerva è finita fammi rivedere ok ecco allora sangue sangue poi sono andato qui però qui ci sono gli escrementi giusto? no qui c'è ancora sangue ok perfetto qui no qui allora ah no ok non è illuminato perfetto allora qui qui c'è sangue di lì c'è la cacca ma certo zandrama sono 25 in alto le tazzine colme di caffè grazie mille buongiorno non vedo non vedo altro vedo solo la cacca il timore è stato il cervo a sto punto cambiamo argomento la pasta come la mangiate con due chili di parmigiano grattugiato o giusto un cucchiaio allora anche lì non voglio che il parmigiano mi copra il pomodoro mi piace almeno il pomodoro piace molto denso grazie Ica non si riesce più a seguire come prima ma si rinnova sempre grazie mille quindi se mi presentano una pasta col pomodoro tanto liquido ci metto tanto parmigiano per amalgamare però a me piace il sugo mi piace il sugo denso infatti lo faccio andare un po' di più lo faccio ritirare non mi piace il sugo acquoso a questo punto mi prendo un cucchiaio Tiago grazie per i 37 mesi il ragù viene a sapore del pomodoro scusa in che senso sa me un tavolo buono che conosco il pomodoro ma c'è intendevi il formaggio anche io un sugo bello denso ma dipende dal gusto del pomodoro se non sai di nulla lo condisco con il formaggio altrimenti non lo metto a provare ah beh sì assolutamente assolutamente e per quanto mi riguarda il ragù mi piace bello carico di pomodoro quindi questo c'è una femmina calma lì però non posso cacciarla qua quindi me ne sbatto anche il cazzo allora c'è dov'è il sangue gli escrementi sì però mi serve sangue qua quindi quando mi faccio il ragù me lo faccio bello carico di pomodoro idem per le lasagne mi piace mi piace la lasagna bella pomodorosa urina ok magari ha caccato e pisciato ma non ha sanguinato provo a salire un pelino vediamo qui eh non vedo niente o non è morta il ragù bianco lo so perché sì assolutamente però gli escrementi però sono due cose diverse insomma ciao Vector dopo un figlio di studio il sugo deve pippare per ore diventare una bella crema densa appetitosa che profuma tutta la casa sono d'accordissimo d'accordissimo mi piace un sacco così mi piace bello denso con la sua quantità di basilico con la sua quantità di olio per quanto riguarda appunto il ragù mi piace anche quello bello carico di pomodoro poi dipende anche lì dal contesto però basilico sì mi sta facendo il basilico non è quello con la foglia con la foglia grande lo fai andare un po' due fogliette di basilico poi dopo lo togli intanto insaporisce un po' quello con la foglia è quella grande basilico nel sugo sempre eh mi incasinate la salvia sì nel ragù nel ragù sì ci va la salvia però non vado matto per la salvia la metto giusto perché insaporisce un'altra però dopo la tiro figlia anche velocemente tu lo mangi eh non mi piace mangiarlo quello però però il basilico un paio di foglie nel pomodoro sì ci va anche il rosmarino non vado matto neanche per il rosmarino infatti di solito anche per le patate metto intera la piantina di cioè il ramo e poi tolgo via tutto non lo trito non mi piace non metto né basilico né salvia no nel pomodoro eh nel pomodoro basilico però spacca io ragazzi non so più dove andare a cercare qua 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 e qua finisce la traccia perché poi dopo c'è cacca e pipì anche un po' di origano nel sugo no lì mi diventa un po' troppo pizza l'origano l'origano per una pasta non lo metto mi comincio a pensare che qualcuno non faccia il sugo e versi solo la passata sulla pasta mamma per me è immangiabile quella roba lì con tutto che compro la passata già pronta perché non non me la faccio fatta in casa aspetta un secondo che poi ho visto qualcosa sangue oh sangue eh e mo perché c'è una bella squizzata di sangue qui e poi quindi vuol dire che eravamo sul cosa giusta di qua urina ma porca puttana chi si è tornata giù ma mi sembra strano urina sangue sangue lo vede la schizzata che sembra andare di là tra l'altro però vai te a sapere perché poi dopo non ce n'è altra urina mannaggia sta salita o è despownata perché qui non ho il permesso di cacciare non so sembra ragazzi per i 15 mesi è morta che l'avere rotolato giù ma l'avremmo visto non so se ci sia la fisica effettivamente ma porca miseria comunque si anch'io non mi faccio il pomodoro fatto in casa con macina cioè con la passata non me la faccio fatta in casa mia mamma la fa la fa anche di ciliegino e viene fenomenale io lo compro già fatto però comunque un po' di lavorazione ci va a andare in padella un po' se vuoi con un po' di aglio sicuramente dell'olio ecco questo fritto non lo faccio per il pomodoro basilico allora sicuramente un po' in padella con dell'olio e del basilico sempre quello si però prenderla passata e rovesciarla direttamente nella nella pasta mai la faccio un po' ritirare in modo che venga bella io uso quella della muti che già di base è molto cremosa però la faccio andare un pochino diventa proprio buono ve lo faccio per necessità oh no perché ma a quel punto vai di sughi pronti quelli ho il concentrato ecco io ci butto anche un pochino non sempre quando ce l'abbiamo in casa il concentrato quello della muti che si chiama le verdurine che è concentrato di pomodoro con le verdure non ne metto tanto giusto un cucchiaino un cucchiaino da caffè nella pentola con la passata e quello da consigliato consigliato un po' che arriva il Nepal eh sì cosa facciamo andiamo usi il dado no per il pomodoro no anche perché mi sa che è overkill quello poi vabbè non l'ho capito Giovanni quello è il tubetto sì sì non è male ma ha sempre un sentore di morte e malsanità eh perché quello lì è comunque concentratissimo se ti mangi la cucchiata di quello comunque è come prenderti un pugno nel naso facciamo pin sull'ultima traccia tu dici e poi ci muoviamo dai l'ho persa era su di qua no sono troppo su ma certo ecco qua no sono sceso troppo adesso no non è vero qua c'è l'urina perfetto l'ultima traccia di sangue è qua no qui perfetto mettiamo il pin qui no con l'X grazie Matrix per 46 mesi il dado fatto in casa davvero quel tocco di più le cose eh ma nel pomodoro non è troppo poco il pomodoro per buttarci un dado figa vediamo indietro se è rotolata giù per caso o è disponato per davvero eh vedi qui c'è il sangue perché le tracce proprio spariscono lì vedi qui era pieno ce n'è uno ogni metro c'è il dado in polvere sì è vero è vero noi stiamo usando quelli fatti di gel mi trovo molto bene quelli della star se non sbaglio e li uso per per cosa lo uso? per il ragù per i piselli e basta no lo uso per il ragù non mi ricordo più eh ma non ne ho blecce di quella roba lì no la fauna c'era vilit perché l'abbiamo vista non so se è sparito il cadavere la fauna c'era la fauna c'era so sicuro no l'abbiamo cercata abbastanza direi che andiamo minestrone è passatissimo l'intero non mi piace però mi piace la zuppa di legumi intera non il minestrone andiamo qua a dare un occhio sì l'ho sentito anche urlare ma no porca torta vabbè non importa peccato valence grazie per i dieci mesi l'idea degli aboliti a caso di tutto il glutammato che ci mettono fa ridere però la parola glutammato rinnovate per il treno ragazzi che non c'è per il counter intendevo dire buonino il vento se volete fare i piselli fatti bene prendete i pisellini primavera surgelati fate un bel soffritto in un pentolino di quelli alti una volta fatto il soffritto buttate dentro i piselli surgelati e fateli andare finché non diventano tutti verdi ok quindi quando si scongelano diventano verdi una volta che si sono scongelati riempite d'acqua fino al livello dei piselli e metteteci un dado lasciate andare così per non so io di solito li faccio andare una quarantina di minuti a fuoco non troppo che profumo a fuoco non troppo alto in modo che venga proprio assorbito tutto per bene e viene tutto interessante piselli verdi no che piselli mangi tu 40 minuti a basso con con il dado e tu vieni invece perché ti consiglio una roba diversa nel sacchetto e non è funzionale prima fateli scongelare un po' così e poi dopo buttateci dentro l'acqua chiedete alla mia signora che ha sempre mangiato piselli durissimi che suona male perché sembra che sto parlando di cazzi ma non è così da quando sta con me invece tutta un'altra vita ci sono quelli secchi che sono legumi più simili ai fagioli ce li ho presenti minchia dire mangiare piselli nessuno ha pensato ai cazzi va là sei la prima vedi millennium subito a fare le battute visto mi permette come maiala sei piccola ma vari per dieci piselli verdini sono troppo dolci quelli secchi sono appena dolci se non zero proprio beh buttaci il sale ho famissima ma attenzione ho giusto qui dei camporelli non so perché camporelli biscotti di novara importati originali e anche rotti perché sono caduti no non sono rotti confezionati due a due guarda qua i genitori del pavesino l'originale sono importati buonissimi noriu buoni buoni cranto troppo devo mutare che è che fatti da misù coi pavesini i figli di satana buoni buoni mi sono andati a fare una grigliata questo weekend ho visto il tempo le terme io lo faccio con i pavesini ed effettivamente le corna mi danno un po' di no allora io posso capire questi che almeno sono grandi i pavesini sono pure piccoli ma perché mangiate perché fate il tiramisù io adesso voglio sapere perché fate il tiramisù coi pavesini come mi piace di più ma io non capisco te gabri e al ceramino per i 63 mesi i plasmo sono fenomenali come biscotti che sono biscotti per bambini ma sono buoni buoni non li compro perché ti fanno a pacchi da 80 e non li mangio però sono tra i biscotti che più mi piacciono gli oro saiva anche gli oro saiva spaccano però mi stanno mi rompono i coglioni velocemente gli oro saiva mi rompono i coglioni mi rompono i coglioni mi rompono i coglioni e chi gli oro saiva e chi gli oro saiva ah nel senso che dopo che ti svezzano step successivo no ci sono gli oro choc e poi ti blocchi lì perché mangiarli senza il choc nel latte io gli oro anche li mangiavo sani allora nel latte tu devi guardare il latte e tenerci qualunque cosa distante se vuoi ci puoi inzuppare le macine inzuppi la macina si riempie di latte ti mangi la macina mangi finché non sei piedo poi prendi il rimasuglio di latte con i pezzi di biscotti e lo butti via così si fanno le cose fatte bene spercone di latte no mi metto la quantità giusta per inzuppare il biscotto io lo metto di piatto poi dopo quando rimane poco mezzo dito butto però piuttosto che bere quella roba lì veramente sto senza mangiare la parte più buona santo cielo mamma mia ma vabbè ma sto parlando con gente che fa il tiramisù con i pavesini quindi grazie Cringy Gatto l'unica certezza in questi tempi pazzerelli grazie mille ma tu lo sai che sei pipipi cosa fargli a fare cosa vuoi cosa vuoi hai mai mangiato male a casa mia Gabriel dimmi ti ho mai portato in posti dove si mangia di merda adesso mi rispondi con sincerità devi dirlo non lo sto trattando male quello stronzo i cicchetti erano davvero pessimi sì quello sì però non non è stata una una cosa nostra no no ha ragione ha ragione diciamo che quel bar ci ha tirato una mezza inculata quella volta lì ci perché quando arrivi dopo mezzogiorno è come se tu fossi uno stronzo ma ne abbiamo già trovato un altro per per tampinare Gabriel non ti preoccupare abbiamo abbiamo trovato il sostituto cerca si chiama il bar ai nanetti cerca cerca e vedi lo vedo ragazzi però è a 200 metri non lo vedo ancora datemi un attimo che arriva eccolo là speravo si avvicinasse un secondo però effettivamente il tiro non è male ma è stato tutto un po' proprio era locale il problema Gabriel come ben ti ricorderai allora il cuore è lì ce l'ho fatta va che ce l'ho fatta eh una femmina una femmina mi sa di no mi sa che ce l'ho ragazzi io mi sa che ce l'ho fatta ti prego dimmi che andava bene anche con l'altra missione oh no non mi dire che non avevo la missione attiva ti prego ti prego spero che me lo faccia quando lo analizzo perché questo qui l'ho shottato proprio com'era x non l'ho preso il cuore a me è sembrato che cadesse giù dritto morto eh dici tiramisù è nostro altro che fare una certo ho mangiato anche domenica sera al po' allora non so se l'ho postata a sto punto la foto perché ho fatto un casino col post di instagram dove ho portato la mia signora per il nostro anniversario è il locale che ha inventato il tiramisù quello che vedete lì è il tiramisù originale e dove è stato inventato guardate nel post di instagram eccolo qua ragazzi diritto al cuore eh non me l'ha data buona perché non avevo la missione attiva però porca puttana no che coglioni sta cosa vedi vado per recuperarlo eccolo qua o forse lo devo recuperare faccio vendi ah no me l'ha data me l'ha data buona allora ridammi l'altra al volo perché ho sparato ma mi sa che non ho sparato a una femmina adesso perché c'è del sangue qua molto sangue bolle d'aria o era il suo mi sa che era il suo perché non so se l'ho colpito l'altro e mi sa che era un maschio tra l'altro eh il suo si era tantissimo sangue minchia che colpo eh one shot sono fenomeno sono fenomeno della caccia no vabbè allora ridammi l'altra quest non so perché non me l'ha data voglio dare polmone sì perché poi dopo il cuore ha preso anche il polmone bene hai cacciato il tuo primo cervo dalla coda bianca più o meno in questi casi i cacciatori slovacchi seguono il rito preciso si inginocchiano sulla gamba sinistra con la stessa mano tengono il fucile poggiato a terra portano il cappello al petto con la mano destra poi e se non ha il cappello vabbè poi rappresentano un circ un rappresentante del circolo li colpisce tre volte sulla spalla con un fucile da caccia e consegno a loro il certificato e l'investitura per quella particolare specie ammazza tu hai sufficientemente superato la prova non mi resta che sfidare il certificato e via il tuo chalet io e tuo nonno siamo amici da molti anni ho sempre mirato il suo spirito e la sua etica ok quindi mi hai dato il permesso di caccia qui buona buonissima abbiamo questa casa da recattare mi pare di no buonissima ho certificato buona 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 ve l'avevo detto che ci dava il certificato stando qua bellissima questa cosa mi sta piacendo un sacco questo gioco abbiamo fatto un po' di fatica a fare una quest però dai va bene è andata ah si il wapiti devo anche uccidere e il tasso allora intanto facciamo la missione di storia del cervo dalla coda bianca e andiamo qui intorno a cercare quanto costa? 40 euro se non sbaglio diamo un'occhiatina qui intorno ho la macchina ma andiamo a piedi esploriamo a piedi vediamo che succede intanto abbiamo mezz'ora e poi dopo c'è Microsoft Game Pass no Mancio grande gatto sono 14 grazie mille sono incastrato mi sono proprio incastrato santo cielo quanto dura il conflitto? doveva durare una cinquantina di minuti si diceva no? con l'intero su Steam 25 su Insta in gaming credo che aveva ragione estratto da Repubblica si chiamava Ado Campeole l'inventore del dolce a base di biscotti in savoiardi zucchero, uova e mascarpone il ristorante le beccherie di Treviso che ed è anche lì che nel 70 nasce Tiramisu si si lo so ma è gente ignorante che dice che non è vero ma è così certificato dall'Accademia Italiana Cucina con tanto di atto notarile si si assolutamente è lì è lì che è stato inventato Tirami Su è qui di Treviso paccando sulle sue affermazioni ho capito Q io sto dicendo un fatto e la gente dice no secondo me non è così e allora vaffanculo che vuol di è un fatto non è che mi sono svegliato una mattina e mi sono inventato la puttanata ne invento tante però in questo caso è un fatto è un dato di fatto il Tirami Sua è Trevigiano Muflone buongiorno gatto e chat sto andando a Torino per vedere Casino Affitto tanti auguri e congratulazioni mia nonna l'ho cucinato nel 69 come la metti ha certificazioni ha un foglio di carta c'è qualcuno che garantisce grazie a Teo per gli otto mesi che poi cucinato soprattutto tu c'eri che ria fresca ah sì mi ricordo vado a vedere se c'è qualche eh eh cervo mulo che coglioni cervi mulo sono dappertutto ma ha rotto le palle merda di cervo mulo secca ah sì mi ricordo volpons 11 mesi buona giornata anche a lei grazie mille che remissione come la pizza a Napoli è una cosa seria vabbè la pizza è una cosa seria dappertutto poi poi a Napoli la fanno in una maniera che personalmente non mi piace però è l'originale infatti anche oh coda bianca perfetto infatti questo è il mio problema cioè non è vero che non mi piace dovrei dovrei proprio assaggiarla perché sulla carta non mi piace però vorrei vorrei provare andrò a trovare lino prima o poi pizza napoletana non si batte e lì entra in gioco il gusto purtroppo certo c'è una differenza abissale tra io che preferisco la pizza più bassa e col corrigione più piccolo a chi mette in merda di pavesini e tiramisù però quando vengo quando recupero le sub qua lo metto obiettivo 3005 vado a trovare lino va bene nuovo obiettivo a 3500 vado a trovare lino fatta la pizza napoletana si batte decisamente parola campano ma anche lì dipende da pizzeria a pizzeria grazie ad andrea per le tre sub minchia vi ho convinti subito cazzo basta così poco eh sì Ricky però vengo con una zattera sarebbe bellissimo cioè morirei nel tentativo infatti le simila sable le lascio in eredità alla mia signora però sarebbe bellissimo riccardo dai una questione minore pizza è molto a casetta ma allora ragazzi non dovete fare l'errore del rendere regionali o cittadine le pizze o i sapori perché va da ristorante a ristorante sempre e comunque ogni ristorante comunque fa ogni pizzeria in questo caso fa le cose a modo suo seguendosi la ricetta originale però c'è anche come viene seguita la ricetta che materia prima viene utilizzata come è stata lavorata cioè ce ne sono tante di variabili grazie a Asprey Dell per la sabre galata casetta la pizza diversa a Napoli ci sta ma magari c'è qualcuno che la fa uguale quella di Napoli a casetta non puoi in tutta casetta fanno tutti uguali la pizza dove vai vai tutta casetta è la stessa uguale perché qui abbiamo credo come in tutta Italia una ventina di pizzerie e sono tutte diverse grazie Frani per il certo biz casetta è un franchise e credo che chiunque di noi abbia vicino a casa almeno dieci pizzerie almeno chiunque e ci sono pizze diverse c'è la pizza gourmet che anche quella è molto buona però dipende ti deve venire voglia anche di mangiarle cannavacci grande gatto lei è un intenditore mi mette sempre le fame quando parla di cibo eh lo so infatti ho una fame bestia anch'io pizza gourmet costa 15-20 euro a pizza ed è anche piccolina però cazzo se è buona 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 quella che fanno qua cioè è una roba veramente buona quella che fanno qua quella che fanno in un locale qui che si chiama è buona poiché mi scazza la pizza la sarda ormai non la fa più nessuno perché hanno iniziato a farla tutti alla napoletana senza saperla fare eh vedi anche lì anche lì è lo stesso discorso che facevo con Marco che lui dice non vado al ristorante italiano a mangiare italiano perché lo mangio buono uguale a casa non è vero perché esattamente come vado a mangiare il sushi se mi facessi il sushi a casa sarebbe dello stesso livello della pasta sia fatta a casa mia che al ristorante perché io faccio bene la pasta come piace a me però è chiaro che al ristorante lo fanno con altre materie prime lavorate in un'altra maniera e sicuramente con con una cottura fatta anche la pasta al pomodoro comunque viene fatta di un certo livello poi magari ci sono paste un po' più gourmet meno gourmet tutto quello che volete però è ovvio che io non posso essere allo stesso livello del cuoco esattamente come fare il sushi non ci vuole niente fai il riso lo fai con la salsa di soia lo fai andare lì lo fai raffreddare fai la palletta ci metti sopra un pezzo di un pezzo di sashimi che compri già abbattuto è fatto devi solo tagliarlo e piazzarlo sopra è fatto non ci vuole niente chiaro che le cose vengono fatte decisamente meglio ristorante anche perché se fossi così bravo a fare a cucinare fare il cuoco senza studiare senza fare niente minchia cosa la paghi a fare allora la gente che lavora fortunatamente la risorazione è piuttosto a livello di cucina locale o agriturismo sono tutti molto richiesti fortunatamente ma il discorso che facevo l'altra sera con i termos la cucina italiana è molto molto sottovalutata soprattutto dai più giovani perché c'è questo concetto del eh vabbè ma mangio meglio a casa mia se devo mangiare la pasta allora sto a casa esco per mangiare il sushi e non è vera questa cosa perché è veramente cioè ci sono delle robe veramente buone servo un mulo calmo non mi interessa che sono sottovalutatissime perché tu la mangi a casa e per te è una roba normale ma se tu vai al ristorante e ti fanno la stessa cosa ma al 100% è meglio di quella che fai a casa ho una fame bestiale e questo è un peccato perché la cucina italiana meriterebbe di essere più amata dagli italiani perché poi dopo fanno tutti i fenomeni eh no noi in Italia facciamo questo facciamo quello sì è vero ma porca troia ma vorrai anche andare a pagare insomma per questa cucina italiana oppure la cucina italiana serve solamente per far dire gli italiani la nostra è meglio e poi comunque vai a mangiare il sushi noi italiani facciamo la pizza mamma mia andiamo a mangiare il sushi stasera cinese no come aspetta ok sono spaventati ma sono lì e poi non sto dicendo che non dovete mangiare il sushi ci mancherebbe io mangerei il sushi pranzo colazione e cena però è veramente poco poco sfruttata la cucina italiana no puoi mangiare entrambe le cose io stavo dicendo che quando in generale la cucina italiana non viene mai 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 presa in considerazione per per uscire a cena ed è un gran peccato ok loro sono qua li ho visti che erano qui quindi voglio andare a vedere lì che cosa fanno poi è bello assaporare i sapori internazionali che poi alla fine è tutta cucina italiana anche quella perché non credo esista una cucina internazionale che ti faccia le cose originali cioè il cibo cinese originale non l'ha mangiato mai nessuno io sì devo essere sincero sì avevo un amico cinese compagno di classe e mi ha portato in un ristorante cinese cinese la roba era completamente diversa però non è un posto dove tornerei senza di lui perché era Chinatown mi hanno portato un menù in cinese con la traduzione sbagliata in italiano io ho dovuto chiedere al mio amico cosa prendere da mangiare ed era tutto completamente diverso è un'esperienza che purtroppo non posso ripetere perché non parlavano italiano neanche i camerieri e quindi insomma così mi piacerebbe fare la stessa esperienza con il giapponese io abito all'estero e francamente i ristoranti italiani fanno robaccia che di italiano ha solo un nome esatto stessa cosa al contrario è lo stesso discorso fanno il cibo italiano per gli americani prendete l'esempio Binch che abbiamo parlato spesso di cibo lei vive in Canada cioè per loro l'aglio è una roba che noi buttiamo proprio così al posto del formaggio la lasagna soup santi Dio c'è iniziano di quelle città di Patova la cucina italiana viene vista come una cucina ad adulti sia per la questione di costi che per una questione di idea oggi si intende andare al sushi perché costa poco allora se mangi la merda tutto costa poco nessun ristorante buono ti fa pagare poco poi un conto c'è differenza tra pagare poco e pagare 100 euro ok c'è una c'è un'abissale differenza se tu vai in un ristorante di sushi paghi tanto quanto un ristorante italiano normale 30 euro a persona poi dipende da quanto mangi quanto non mangi prezzo normale anche meno anche di più a meno che non siate molto fortunati di avere qualità a poco prezzo perché il territorio lo consente e lì però si entra in ambiti molto più specifici però dire costa poco sì mangi la merda perché parliamoci chiaro ragazzi il sushi comunque insomma è una rottura di coglioni perché non solo devi importare il salmone lo devi abbattere deve essere privo di batteri insomma prendiamo il pesce è comunque pesce crudo va trattato in una certa maniera è ovvio che costi più del pesce normale preso in pescheria perché comunque il rischio malattie è alto chiaro che come tutti i prodotti di qualità esattamente come il pomodoro particolare il ciliegino e quant'altro va a costare di più potete mangiare bene se potete mangiare all'infinito con 15 euro cioè può costare così poco la materia prima sì perché mangiate la merda la madonna Gabriel buonissimo poi volete mangiare l'ulkinit ok non venitemi a dire che si mangia bene non venitemi a dire che è di qualità non è possibile ci sono degli uulkinit soprattutto a Milano che sono sono molto buoni però ti sparano 50 euro a testa e allora lì è un altro discorso mangi da dio però è comunque pagato 50 sacchi l'aggiornamento perfetto degli amici che invece di andare magari una volta al mese in un bel ristorante vanno una volta a settimana sto scherzando al sushi questa è una roba che mi ha ucciso il cervello per anni stai sfondando una porta già distrutta proprio non c'è neanche più il muro che sorreggeva la porta porca puttana io veramente preferisco non andare al ristorante tutti i weekend ci vado una volta al mese però mangio bene cazzo mi spiace sono stato ieri una carta e o sono ignorante a livello di gusti oppure faceva proprio schifo perché non sono stato in grado di capire la differenza e magari allora non è che se ha la carta allora è buono ho mangiato del sushi e la carta che faceva veramente cagare pagato anche cifre altissime esempio l'ai sushi non l'ai sushi scusami il zushi che la catena forse l'ai sushi è buono era più buono quello di padova rispetto a quello che c'è qui a treviso però zushi è quella catena che c'è dagli albori che costa tantissimo sono stato a padova sono stato qui a treviso adesso non ricordo se no no a padova più di una volta mamma mi stanno ciao gattone rimani sempre forte così e lascia mangiare male alle persone no vi voglio curare adesso non so se si sia migliorato l'ultima volta abbiamo mangiato il sushi a padova nostro anniversario quale sa tre anni fa sarà stato che tra l'altro avevo anche la febbre no di più quattro anni fa sarà stato avevo anche la febbre infatti volevo mangiare il sushi ne avevo una voglia matta solo che il sushi era pieno yes mi hanno dato la chiave di food truck simulator e allora siamo andati siamo andati al sushi si c'era il sushi è belluno ed era buono anche quello non come quello di padova però devo essere sincero oh abbiamo pagato avrebbero dato 80 euro i peggiori soldi spesi in cibo della mia vita pelic buongiorno appena fatto un esame è andato bene ora mi dirà sto vedendo sparare qualche cervo grazie mille però mi sa che non mi vedi sparare i cervi perché tra poco switchiamo su microsoft il sanshi il sanshi non me lo ricordo però mi dice qualcosa perché io dopo dopo che ho trovato l'alu che fa poca roba purtroppo l'alu fa poca roba ma estremamente buona è dove ho portato gabriel infatti quello lì è anche un po' di livello più alto però una volta che provi quello cioè se devo pagare 10 euro in più mangio di meno vado lì mangio di meno mangio meno volte e vado lì perché tra l'altro l'ultima volta ha pagato pure gabriel sto stronzo ok volevo trovare giusto questo e gabriel può confermare comunque la qualità del del sushi takoyaki anche quelli che te li vendono a peso d'oro però cazzo che buoni quindi sì ci sono ristoranti alla carta che vi danno da mangiare la merda ed è una cosa verissima però di base gli olukinit non possono proporvi della materia prima di qualità perché non ci rientrerebbero della cifra e lo fresce io speravo che mi sponsorizzano stanno sponsorizzando lino e non me io le ho fatto pubblicità gratis per una vita e dove sono io sto rosicando un po' devo essere sincero quando mi ho detto lì ho fatto il portale da come ma da chi da chi mi porta ragazzi tutti gli olukiniti sono così partono che sono straordinariamente buoni appena hanno un po' di giro di gente la qualità droppa tutti l'unico olukinit buono che mantiene adesso non so se sia ancora aperto era il rullo dell'ai sushi a Padova però fanno pochissima roba ma tipo quattro piatti e il posto è per una decina di persone solo a pranzo e non nel weekend cioè per dire è proprio una roba giusto per chi lavora lì olukinit con quattro piatti esattamente perché così non devono fare troppi piatti possono mantenere le cose di una certa qualità va benissimo così non mi interessa avere una scelta gigante mi interessa avere la roba di qualità voglio avere la scelta gigante pago ne ho provato prima lamejack da quando ho mangiato il sashimi accompagnato dal quercode e la tracciabilità di ogni singolo pezzo di pesce ho abbandonato sì ho capito però quella roba è over le olukinit sono lì e tu sei ma che roba è bellissimo però si è livelli altissimi proprio quattro piatti sono veramente pochi c'è una decina me li farei andare bene ma quattro quattro di sushi poi dopo c'era la roba cotta però se parliamo di sushi sushi saranno quattro cinque piatti non lo so però sti cazzi io non vado al ristorante per sfondarmi di cibo se voglio sfondarmi di cibo mi faccio due etti di pasta a casa me le magno vado al ristorante per mangiare bene vai dove riusciamo a vederla microfrost non lo so non lo so io vado a vedere su youtube ho speso 200 euro in due ma come già detto preferisco andare a cena magari una volta al mese ma con i controcazzi mi trovo assolutamente d'accordo abbiamo speso la stessa cifra per il nostro anniversario e la mia signora abbiamo mangiato da dio e tantissimo abbiamo anche fatto fatica a finire di mangiare perché era il nostro anniversario abbiamo detto ma si dai prendiamo antipasto primo e secondo è dolce solo che prima dell'antipasto ti portano l'entrée che già lì era un botto di roba da mangiare anche il pane fatto in casa appena fatto lì con l'olio speciale poi dopo c'è stata la tartare poi dopo c'è stata la pasta poi dopo c'è stato il filetto e poi dopo c'è stato il dolce insomma è stata una bella una bella abbiamo fatto fatica abbiamo fatto molta fatica perché e questo non smetterò mai di ripeterlo non è che se vai in un ristorante costoso allora le quantità sono grandi così questo è un falso mito siamo usciti che rotolavamo e Nicolò aspettiamo che finisca l'estate magari che dici allora Xbox vediamo c'è GameSpot no qui non c'è niente magari su Twitch Xbox 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 non è in live qui che paura c'è uno streaming in starting zone ma è una replica ah sì mi ricordo IGN la sta streamando ma senza voci barra ciao gatto come stai ti saluto dall'università dove sto lavorando come dottorando non serve dire che mi sono lavorato in triennale magistrale con le sue live video grazie mille per questo ti mando una piccola fanarte grazie grazie mille c'è GameSpot vediamo bellissimo brava va bene ma forse GameSpot non commenta vediamo vediamo lavora lavora la pasticcia 3 stelle Michelin vi assicuro che 10 su 11 portate sazia molto che un 10 11 portate sazia molto sì sì ma è verissimo purtroppo e questo è un altro concetto sempre figlio del molto italiano eh ma tu vai in quei ristoranti lì non mangi niente torni a casa con la fame hai speso un sacco non è vero mai mai Sony non fa TGS e Microsoft sì beh perché Microsoft deve allora Sony sta abbandonando il mercato giapponese per qualche motivo Nintendo ha fatto il direct e non ne ha bisogno e Microsoft sta attaccando già da un paio d'anni in maniera abbastanza aggressiva il Giappone e fa bene fa bene perché è un mercato non trascura infatti mi aspetto molta molta giapponesità in questa conferenza come quella dell'anno scorso sono solo cose che la gente si racconta per non dover andare a spendere nei ristoranti è triste c'è canale YouTube del TGS vediamo vediamo Tokyo Game Show non lo trovo ma sì ma perché non vivo bene GameSpot ToyGN è uguale un'altra pubblicità detto 2022 vediamo no lo stesso non c'è proprio quello original da me almeno ma sì ma guardiamo no volete più valo IGN guardiamo IGN grazie a tutti Grazie a tutti. Non mi aspetto titoli main di alcun tipo, mi aspetto titoli molto japan style e qualcosa di già visto. Secondo me oggi non vedremo grandi robe, eh? La stiamo guardando giusto perché è il mio orario, siamo qua, cosa facciamo? Guardiamola, però non mi aspetto niente. Pepper Ruby, buongiorno, un salutone da 28 mesi, grazie mille. Da 28 mesi dopo. Che ne pensate di God of War? Cosa dovrei pensarne? Esce, fra due mesi lo giochiamo. Però... Che è successo? Mancavano ancora 20 secondi, mo? Tutto bene, raga? Nick, grazie per 30 mesi! Ma si è impallato? No. Un tavolo buono che conosco il proprietario, ma certo. La suspense mi uccide? Scusate, grazie Kenobit per il ride! Game spot? Porca troia, di qua era già partito. Mi avete fatto passare IGN? Bastardi, Game spot sta andando. Due pubblicità, vi odio! Grazie Kenobit per i 44 mesi! Che voglio essere a Tokyo over 9000. Eh, sì. Ah no, non è vero che è partito. È bloccato da entrambe le parti. Niente, vi chiedo scusa. C'era gente in chat che diceva che cos'è questo, che cos'è quello. Niente. Non è che voglio andare a Tokyo, ma in primavera. Perché dei videogiochi non mi interessa niente. Non so, quindi. Oh, eccolo qua. Minuto di ritardo, va bene. C'ero? Begge di chotto. Sì E' molto giapponese questa cosa Come il volume? Sì Ciao a tutti E' un honore di essere tornato a Tokyo Game Show Per share update con i nostri fan in Japan e all'Asia Ma gli hanno tolto i soldi per le giacchette a Phil? Alza un filo Buon moso Cosa che è poco più di una felpina E' specialmente negli ultimi anni Il gaming porta le persone insieme Inoltre le geografie, le culture, i linguaggi e le demografiche Ha un potere trasformativo per portare la felicità e la comunità E' qui a TGS che possiamo tutti enjoy L' incredibile spirito dei games insieme Ragazzi ho il giacchia così Per convincerlo Fa caldo, le adici per quello I read them as a teenager Ho lasciato aperta la pagina Twitch ed Xbox Scusate Per non far aumentare l'Xbox di 50 euro Ha tagliato il budget felpe Adesso mi era contento lui Tira fuori le robe dello zainetto A Yakuza? Cosa ha detto? Perché Sony se n'è andata amico mio Ma si è tinto? Fì cosa fai? Cos'è? Si è tinto di rosso? E' la luce dietro Tu dici col green screen Sembra quasi che ci abbia i colpi di sole rossi No no, secondo me non solo le luci Sono i capelli suoi Strano, del giapponese Perché non era uscito Persona 5 Erano usciti tutti gli altri nel Game Pass Ma non è i capelli neri Phil No il TGS Ma infatti era quello che stavo dicendo prima In Pass se non sbaglio gli altri Comunque grazie al cazzo che vendono le serie SS Guarda cosa buttano fuori nel Game Pass Il 21 ottobre Stanno veramente attaccando in maniera molto Ah no, il 4 arriva Ah no, il 3 e il 4 arriveranno prossimamente Ma mi pareva avessero già annunciato Scusatemi Scusatemi L'unico titolo che mi aveva interessato Dalla conferenza Sony Per Switch venivano annunciati Alec, bravo No, è un altro No, è un altro Scusatemi Fa due giochi nel Giappone medievale Vedamente qua ci sono dei mostroni Non si erano visti lì là Ah Vero, è vero E l'altro, è l'altro E hai ragione Ma perché fanno due giochi uguali? Che sono diversi L'altro è la più assassini scherida effettivamente Scusatemi Ok Altro sembrava più bello Per il mio gusto Poi vediamo C'è il Perry Sembra molto Souls Anche il drop a terra Team Ninja Team Ninja è molto ossessionato con il tocco Cosa toccano questi? E' il figlio di Neo questo? Eh sì, infatti non so se mi piacerà Ma è Neo non me ne è piaciuto Spero che l'abbiano modificato Nio non mi è piaciuto Però l'altro del Team Ninja Mi è piaciuto di più Quindi i personi fanno Assassin's Creed in Giappone Per Microsoft e Neo 3 E' a quanto pare Sembra essere metà tra Neo e Secchio E' vero Anche mi ha dato quel vibe lì E c'ha sempre questo stile Come si diceva l'altra sera Con i personaggi vecchi Ma che bella la tigrona Sembra molto figo Vediamo come sarà il gameplay Ah la musica c'è bisogno di farla così alta Eh io spero veramente tanto Che non ci siano le pose alla Neo Che sono la roba che proprio me l'ha fatto mollare Non mi piacciono Size Grazie per i quattro mesi Ah si piccola Ha detto train error Vabbè I giochi di quel tipo Lì lo sono Non lo definireste Train error Dark Souls Vulong Fallen Dynasty Game Pass 16 settembre 16 settembre 16 settembre 16 settembre 16 settembre 16 settembre Tokyo Game Show 2022 Xbox Stream Ah è l'apertura della demo al TGS Ok ok Infatti mi pareva strano Mi sono distratto Cos'è questo Pokemon Che non è questo gioco qua Fradattura signorina Quindi l'islanda di Bikitoa ha stato preso 3 anni E Ibeus non potrà capire la malformazione di Leviathan? Posso capire le reporte di exo-fighter patrols sull'islanda? Ho capito qual è E' quello con i dinosauri e le exo-tute Eh c'ha sempre stottine che non mi piace Quell'armaturone tutte fighette Non è neanche fighette Tutte arzigocolate Eh la grafica C'è sempre questo stile giapponese Che è vecchio Purtroppo Tutti i giochi giapponesi Quest'anno tutti di vecchio cazzo Minchia figo comunque Non è mai un'opzione Non è mai un'altra Mi ricorda le armature di... Di quello free to play Warframe esattamente Non mi piace per niente E' rosico perché i dinosauri mi piacciono tanto Eh no Non è per me purtroppo Ma do Blood Blue L'avevano già fatto vedere vero? Se mi aveva già fatto vedere Blood Blue Ecco vedi mi... Mi intriga molto più Blood Blue Rispetto a... No a Tekken Tekken è proprio di legno cacchio Doveva durare un'oretta Tekken però era graficamente impressive Non si è visto Raku Non aveva fatto vedere gameplay Però si Puoi avere la grafica più bella del mondo Ma se il gioco è di legno Era in tempo reale il combattimento Di quello lì che si era visto E allora si era bello Era molto bello allora Secondo me questo è rimasto vecchio Non solo ho aggiunto effetti di luce Ma l'animazione si è rimasta qui 15 anni fa A poca pulività E' vero E' verissimo quello che dici Gabriel Infatti hanno fatto questo nuovo No questo è Getty Gear scusami Però a livello di gameplay preferisco quella fluidità lì Ma dove chiamole? Ma dove chiamole? Morty buongiorno da un po' che non passavo Mi fa molto piacere vederla Felice salute Grazie mille Buon finto lavoro Sì Xbox sta andando in Giappone Cioè Microsoft sta andando in Giappone E solito andando in America Questo veramente Redfall Porca troia Che peccato Redfall proprio no Eh Dorian no Eh E coso È Left 4 Dead Dicono che lo puoi giocare da solo Dicono che Vediamo eh Ma mi pare veramente troppo Left 4 Dead Redfall Che poi non Io l'avrei fatto molto più horror L'hanno fatto super cartoon È open world Ho capito Però Si è pensato comunque Per essere giocato in 4 Se io vado in giro E ho il party Non sono da solo Già di base Il gioco è pensato Multiplayer No Questa è la Battle Royale No No ma provarlo non nuoce Però dico che peccato Perché i vampiri Mi piacciono da morire Però non sta uscendo Un gioco fatto bene Sui vampiri Per me Hanno perso una bella occasione Per fare un bel gioco Horror pesante Ho capito come Bandai Namco, Capcom, From Software, Kojima Productions, Koei Tecmo, Konami, Sega e Square Enix. Kojima l'ha... eccoci. C'è un rumore strannissimo. Palworld, ecco quale... Cos'era quello? Vabbè... Ma Tetris Effect Connected non è l'esclusiva Play 5? Vabbè che se la potevano anche tenere, secondo me, come scusi, oh ok. Forse è temporale. No, me lo ricordo, questo ricordo che era una roba di Play 5. Forse ricordo male. C'è un progetto di Cina e Corea, e lo sapete che lo sanno. Nel prossimo 12 mesi, stiamo lanciando ancora più titoli dei creatori japanici e asia, includendo Wolong Fallen Dynasty, Aiudin Chronicle 100 Heroes, e la Franchise Persona, tutti arrivano a Game Pass. Siamo committati al mercato japanici, e per portare una diversa collezione di storie e franchise da sviluppatori all'Asia. Questo è una parte importante della nostra missione. È perché la PlayStation su Play 4, poi Connected è esclusiva Xbox, dei One Game Pass. Ah, era esclusiva di Xbox, invece. Grazie. Mi ricordo di aver detto questa puttanata, e infatti ho sbagliato casa. Aveva preso Microsoft. Linokuni? Questo era esclusivo. Bello! Il 2, però non so se è anche l'1. Questo è il 2. Ah no, sono entrambi, perché lei è la protagonista del 2, e quello di prima era quello dell'1. Game Pass? Ah, eccolo qua. Remastered addirittura. Quello che parla romano. Non ho mai giocato, Linokuni. Ah, anche per smartphone. Eh, non mi ha mai preso. È lui il protagonista del 2. Ah. Che lo so? Play 3 era, sì. Eh, io senza giocarci, Gabber, proprio. Non mi ha preso. No. Più, non mi ha preso. Però... Oggi Game Pass. Beh, non mi ha preso. decisamente not my cup of tea ok ma scritto la robbie e le mando giusto e c'è uno stile troppo giapponese per me ragazzi proprio non è una roba il 15 settembre ma è una remastered pure quella perché stiamo guardando la conferenza my host ed esce da garompa nel game pass il 15 che oggi a oggi esce a ciao roberto sto mandando vocale non è oggi qui ma cos'è overwatch questo si è overwatch sarà overwatch 2 immagino no no è overwatch ragazzi ci sono i personaggi di overwatch ride bellissimo non lo so 5 ottobre come free to play free to play diventa ma non mettono la trama allora ah ah solo pvp frizzoppia parte del pvp ok quindi sì 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 Il titolo è giapponese. Ma vabbè, ma avranno creato qualcosa ad hoc? Spero. Ci sarà una trama ben congeniata. Non credo che siano le stesse partite dell'online. Lo do per scontato. 100 Eroson. Che bella scena. Vabbè, non è che questo mi interessa, però è bellino, bellino. Se mi sarà che mi c'è il contrario, signora. Da lui più aveva, invece, è arrivato. Il libro è sicuramente il terzo soggetto. Immaginavo. Scusa, gli occhiali che problemi hanno? Non sono attaccate le lenti. Guarda! C'è un buco! Non riesco a smettere di guardarli. Ah, no, no, grazie per i 9 mesi! Lei però con questa camicia al contrario, signora, ma la rigiri? Che c'è le cuciture per fuori? Oh, magari si è macchiata prima di registrare. Ci sta bene! Buongiorno! Allora, se nessuno se ne accorge, rigira la posto. Ok. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non so pronunciarlo. Chronicle 100 Heroes. Gestionarle? E non è coso questo... No Satisfactory. Come cazzo si chiama? Bellissimo il Gundam con le ali. Factorio. Però no, no, sembra più bello. Gento. Factorio dove l'hanno fatto vedere? Da Nintendo? Non ho capito cosa sta succedendo adesso. Dyson Sphere Program. 13 ottobre. Ok. Forza. Quanto mi mancano i venti forza con una progressione fatta come dio comanda. 10 anni. Ma questo non è quello dove si sparano. Sì. Sì. È Panward, sì. Ma fa ridere che ti devi craftare, no? La crafting table, l'arco e poi c'è la mitraglietta. Che cazzo. Ecco, vedete questo gameplay qua? È quello che doveva avere Arceus. Poi... Allora, se posso dire la mia... I fucili e i missili sono un po' troppo. Avrei evitato. L'arco sì. Va bene qualche bomba. Va bene questo, esatto. Però il lanciarazzi mi sembrava un po' troppo. Anche il mitra. Quello è un po' troppo per me. A mio gusto. C'è una data? No, è l'ora. Lasciaci in Creed. Non è sul pass però. Eh no. Quella era proprio Sparta. No, non è esclusiva. O almeno... È sceso vicino? Non so solo la prima. Credo di sì. Che passo odisi il 5, 15. Buono. Oggi? È sempre oggi. Ma di oggi di... Perché il 5, 15? Che mi confondo. Bello che aspettano due minuti e poi ti rimettono comunque una giapponesata in faccia. Hanno fatto vedere Assassin's Creed. No, aspetta. Torniamo subito qui. Con i furri. Che poi era un ritmo in game. Prima, occhio, no? Finalmente su Xbox. Chi se ne frega. Che cosa? Ok, Colto. Sì, dovrebbe uscire sul passato, è stato riccato, mi pare. Sì, dovrebbe uscire sul passato, è stato riccato, è stato riccato, è stato riccato, è stato riccato. Sì, dovrebbe uscire sul passato, è stato riccato, è stato riccato, è stato riccato, è stato riccato. La 6 God of War, che fino a fatto, che hanno fatto le vecchie live. Non mi ricordo se l'ho fatta tutta in live, God of War, mi sa che l'ho giocato molto per i cacchi miei anche. No, no, Deathloop non mi piace. Game Pass. Non ho letto la data, c'è, ho scritto pre-order. 2Bit è stato riccato di gestire il sistema di condizioni di dettagli. Questa è? No, 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 no. 20 settembre, vabbè, 5 giorni. Minna-san, connichiwa! Siamo riusciti di finalmente portare il nostro lavoro di test loop ai Xbox Series S e Xbox Xbox e Game Pass. Credo me, non è facile di mantenere tutto questo tempo. Infatti non l'hanno fatto, perché li hanno riccato tutti. This Loop è una stile scelta avventura di first person action, su due rival assassini in un loop di tempo, e sette in una versione alternativa degli anni 60, dove la tecnologia trova il supernaturale. Come cult, avvicinare i misteri dell'islanda di Black Reap e i suoi denizioni dangerous e trovare un modo per finire questo ciclo di violenza in un loop di tempo. Come Juliana, avvicinare il status quo per invadere i giocatori di cult e arruinare il loro giorno. Includa tutte le migliorazioni che abbiamo fatto dopo l'inizio, includendo le opzioni di accessibilità, le sue fotografie di Sony, o semplicemente perché Microsoft ha comprato Bethesda, poi ha rimosso quello che non credo? Perché comunque le cose precedenti rimangono esclusive. Era proprio temporale dall'inizio. E allora? Che non era un segreto, se era temporale è da temporale. e spero che avvicinare questo molto unico game. Ci vediamo in Black Reap in solo 5 giorni! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Se si sapeva che serve arrivato, comunque. in questo caso, per aver riassato i nemici il titolo di questo giorno, beh a fare questo punto, in questo caso vi ringrazio a crescere tutti i suoi due due game, e grazie a tutti. Per aver capito di rock e carciato anche per oggi, Grazie a tutti i sensi che vi facciamo decidere attivare il Tokyo Game Show 2022, è ancora 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 la impresa. buen'inferente, è un gran viaggio di volare. Questa non è passato. No! Che... Che cosa c'è! Ah, che rilato Cos'ho partito solo No, nuovo, nuovo Niente di nuovo, no Niente di nuovo Non mi aspettavo niente Mamma mia, Sony Ci sono persi un po' in chiacchiere Con un paio di cose, però Belle, belle le robe Stanno prendendo praticamente Tutto il mercato giapponese degli ultimi anni E lo stanno portando su Xbox Non è male come cosa A livello di mercato Vabbò Vabbò Vabbè, a questo punto vado Che vado a comprare prima Il da mangiare Così faccio tutto in tempo Gioco con Oculus? Sì E scarico tra l'altro Dovano anche ricaricare Cerchiamo di togliere un po' di mercato a Sony Stanno recuperando veramente tanta roba Tanta, tanta, tanta roba Così ma dove non c'era qualcosa? No Limone per la frittura Sicuramente Sicuramente Vi mando dei termofischioni E E noi ci vediamo Ci vediamo stas... No, ci vediamo da fra prima Ci vediamo da fra alle quattro e mezza E stasera con... Stasera giochiamo un gioco preso dal Game Pass Ed è... You suck at parking Sembra una robetta carina Stasera ce lo spariamo tutto in faccia Nino qui sul Game Pass Assolutamente sì L'1 e il 2 Una bella botta secondo me Poi roba vecchia Buon proseguimento